Musica Scoperto a Napoli un mercato nero di farmaci salvavita, i carabinieri del NAS di Napoli hanno eseguito 5 provvedimenti di custodia cautelare nei confronti di altre tante persone tutte impiegate nel settore farmaceutico, dipendenti di grossisti e deposito farmaci, accusate di associazione per delinquere finalizzata alla ricettazione e riciclaggio di farmaci, provento di furto. Avrebbero rivenduto farmaci rubati a prezzi inferiori a quelli di mercato a grossisti e farmacisti compiacenti, indagate altre 32 persone. Le indagini hanno consentito di scoprire un traffico di farmaci di fascia H, ovvero farmaci ospedaliero ad alto costo, di provenienza illecita, poiché provento di furti proposti per l'acquisto a grossisti, depositari e farmacisti compiacenti. I destinatari delle misure, secondo quanto ricostruito dai carabinieri del NAS, avevano costituito un vero e proprio mercato parallelo a quello ufficiale, ovvero reperire i farmaci, in gran parte salvavita, a prezzo contenuto comunque inferiore a quello di destino. Nella stessa operazione sono indagate ulteriori 32 persone per reati analoghi.